Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura.net e benvenuti in questo nuovo filmato. In questo nuovo filmato vedremo come realizzare un mini media center in un modo alternativo. Infatti in video precedenti avevo già recensito la Western Digital TV Live che è uno strumento che funziona davvero bene, che costa circa 100 euro e permette di visualizzare sulla propria televisione tutte le estensioni multimediali più diffuse come ad esempio le MKV, MP3 e le varie immagini filmati AVI, DVX, DVD. Insomma è un tuttofare che appunto ci permette di far diventare la nostra televisione un vero e proprio centro di intrattenimento con appunto tutte le varie estensioni multimediali. Oggi vedremo come farlo, possibilmente anche risparmiando, perché possiamo basarci sul Raspberry Pi che è un dispositivo che davvero non ha bisogno di presentazioni, è una sorta di mini computer a circa 30 euro e ha tutto quello appunto che ci serve per realizzare un piccolo centro multimediale. La spesa complessiva è facilmente inferiore ai 60 euro se ci pensiamo perché abbiamo semplicemente la necessità del Raspberry, se vogliamo possiamo concederci il lusso di comprargli un piccolo case come quello che vedete, questo costa circa 7 euro ma ce ne sono anche di più economici, addirittura uno se lo può anche fare da solo in showcase, e poi serve una piccola SD che è una classe 10 da 8 giga ad esempio costa sempre intorno ai 7 euro. E poi vabbè il cavo HDMI per collegarlo alla televisione. Il vantaggio secondo me è di basarsi su un Raspberry piuttosto che su una Western Digital TV è che il Raspberry può essere utilizzato anche per altri mille scopi oltre al media center. Possiamo farlo diventare ad esempio un mini web server, possiamo farlo diventare un server NAS per memorizzare i nostri backup ad esempio, possiamo, se ci piace smanettare, farlo diventare ad esempio uno strumento per la domotica semplicemente imparando a collegare le varie porte di GPIO che sono posizionate in questa posizione ad altri dispositivi elettronici. Insomma consente di dar sfogo a tutta la nostra fantasia. Vedremo anche che, anche però per l'applicazione che andremo a realizzare, è un'interfaccia davvero gradevole e per certi versi funziona meglio dell'equivalente specifico appunto rappresentato dal Western Digital TV Live per il semplice fatto che ad esempio abilitando la connessione SSH ci permetterà di trasferire i file multimediali in remoto direttamente dal nostro computer al supporto di memoria del Raspberry in modo da non dover tutte le volte ad esempio dover scollegare la chiavetta, ricollegarla per scaricare e ricaricare i vari file multimediali. Bene, adesso direi di partire subito e vedere un po' come funziona questo Raspberry.